Panerai Luminor, storia, stile e innovazione. Il Panerai Luminor è un orologio che nasce dalla storia di Panerai, una maison orologera fondata a Firenze nel 1860 da Giovanni Panerai. Negli anni 50, Panerai introdusse il suo dispositivo di protezione della corona a ponte con leva di pressione, che divenne il tratto distintivo del modello Luminor. Tra le complicazioni presenti nel Panerai Luminor abbiamo il datario con finestrella a ore 3, che permette di leggere la data in modo rapido e chiaro. La funzione cronografica visualizzabile su due subquadranti a essa dedicati con lancetta centrale a bastone, che consente di misurare il tempo trascorso in ore, minuti e secondi. La funzione cronografica rattrapante con lancetta centrale a bastone, che permette di misurare due tempi parziali contemporaneamente. Questa funzione è utile per chi vuole confrontare le prestazioni di due eventi o soggetti diversi. Riserva di carica fino a 10 giorni a ore 6, che indica la quantità di energia rimasta nel movimento dell'orologio. Funzione GMT con lancetta centrale a forma di freccia, che mostra l'ora di un secondo fuso orario. Fase lunare in un subquadrante dedicato a ore 3, che rappresenta le varie fasi del ciclo lunare. Calendario perpetuo con finestrelle a ore 3, che indicano il giorno e la data. Calendario annuale con finestrelle a ore 3, una per il giorno e una per la data, e il mese visualizzabile su un anello esterno rotante indicato da una freccia. Equazione del tempo, che misura la differenza tra il tempo solare medio e il tempo solare apparente. Questa funzione è rara e sofisticata, e interessa soprattutto gli appassionati di astronomia e di orologeria. Indicatore dei mesi a lancetta, che mostra il mese corrente tramite una lancetta in un subquadrante dedicato, a ore 3. Dal quadrante è possibile visualizzare anche il contatore dei piccoli secondi a ore 9 e in base al modello al suo interno ci può essere la funzione giorno-notte. Il quadrante può essere scheletrato che permette di ammirare il movimento dell'orologio attraverso delle aperture sul quadrante stesso, può essere nero, blu, verde o bianco con indici panerai luminescenti. Anche le lancette a forma di matita sono luminescenti e garantiscono una perfetta leggibilità al buio. Il quadrante a sandwich è una caratteristica tipica degli orologi panerai, che consiste in due dischi sovrapposti, di cui quello inferiore è ricoperto di materiale luminescente e quello superiore ha delle aperture che lasciano trasparire gli indici e le cifre. La cassa cushion shaped, ovvero a forma di cuscino, ha un fascino retro e senza tempo. La corona a ponte, che protegge la corona e ne impedisce l'apertura accidentale, è un tratto distintivo dell'orologio. La corona a ponte offre anche una maggiore impermeabilità, rendendo il Luminor adatto a qualsiasi situazione. Il quadrante minimalista, con indici luminescenti e lancette affusolate, incarna l'eleganza e la sobrietà. Il Luminor è disponibile in diversi materiali, come l'acciaio inossidabile, il titanio, il bronzo e la ceramica. Questi materiali garantiscono durata, resistenza e leggerezza.